Se l'Europa ha l'euro, Napoli potrebbe presto avere il Napo, una moneta fittizia che però produce benefici reali nelle tasche dei napoletani. Il Napo ha l'aspetto di una banconota, ma funziona come uno sconto. Nei negozi convenzionati col comune, una parte degli acquisti si paga in Napo, riducendo perciò la spesa per il cittadino. La proposta viene da Marco Esposito, assessore allo sviluppo, che l'ha presentata domenica a Napoli durante l'assemblea pubblica Change, promossa dal vicepresidente del PD Ivan Scalfarotto sui temi dell'innovazione. Il Napo è una specie di moneta, non è una moneta perché ovviamente di legale è soltanto l'euro, ma è un buono sconto al portatore che riceveranno i cittadini napoletani in regola con le tasse che fanno il loro dovere nei confronti della comunità e potranno spenderlo esclusivamente nella nostra città presso gli esercizi commerciali, gli artigiani, i rivenditori che vorranno aderire al progetto, all'iniziativa e che praticheranno uno sconto, uno sconto ben visibile rispetto all'estino del 10%. Per capirci, 30 euro diventano 27 euro e 3 in Napo. Sarebbe bello che alcuni servizi comunali li si possa prendere con lo sconto, in modo che chi dimostra di essere un cittadino corretto che paga le tasse magari può pagare meno l'asilo o l'abbonamento all'autobus. Il Napo è ancora un progetto, ma presto potrebbe essere stampato dal comune ed entrare in circolazione sul territorio cittadino. L'idea somiglia per certi aspetti allo SCEC, il buono di solidarietà creato a Napoli nel 2007, ma con una filosofia un po' diversa. Il Napo non nasce da zero. Proprio a Napoli è partita 5 anni fa un'iniziativa si chiama lo SCEC, una moneta virtuale emessa da napoletani per tutto il territorio nazionale perché si è diffusa poi da Napoli. Certo il principio è simpatico, interessante, cercheremo di collaborare per utilizzare quell'esperienza, però noi stiamo facendo qualcosa di un po' diverso perché va a premiare direttamente i cittadini virtuosi e soprattutto chiude il cerchio. Chi riceve questa moneta virtuale, chi riceverà i Napo potrà spenderli e utilizzarli per attirare sul suo territorio delle azioni comunali, per esempio di arredo urbano. Quindi il cittadino che paga le tasse le riceve, paga, spende nel suo territorio e sostiene il tessuto commerciale locale e poi si ritrova il proprio quartiere anche più bello. Troppe volte in questo territorio abbiamo visto che la correttezza non pagava, invece dobbiamo dare ben chiaro il segnale che essere corretti paga.